Non potevamo rimanere indifferenti e come promesso faremo la nostra parte anche senza averne la competenza. Così il sindaco di Fano Massimo Serie e l'assessore a welfare Dimitri Tinti che continuano a seguire passo passo la vicenda del centro Alzheimer Margherita, ancora chiuso a causa della pandemia e delle norme anti-covid che impongono limiti e un aumento di costi. Ieri la giunta fanese ha approvato la delibera di variazione di bilancio che consentirà di utilizzare l'avanzo ante 2017 dell'ambito sociale territoriale numero 6. I 330 mila euro sono stati ripartiti tra i vari comuni, a Fano spettano 170 mila euro, di questi 40 mila potrebbero essere destinati al Margherita, manca soltanto l'ok del Consiglio Comunale che tornerà a riunirsi il prossimo 30 luglio. Abbiamo con costanza mantenuto i rapporti con le varie istituzioni, tra l'altro proprio questa mattina ho avuto conferma di un incontro che faremo con la presenza di tutti i tecnici e anche rappresentanza dei familiari in regione la prossima settimana, perché riteniamo che questo sia fondamentale e una risposta necessaria per i disagi che queste famiglie hanno. Fra l'altro vorrei però aggiungere una cosa, non ci siamo solo fermati nel fare questa opera di pressing, ma abbiamo fatto anche la nostra parte pur non competendo al Comune interventi di questo tipo, ma come amministrazione abbiamo destinato risorse importanti proprio per facilitare e aiutare la riapertura del centro Margherita. Anzi, se mi è consentito, lasciatemi dire anche questo, ho sentito colleghi che sono intervenuti in questi giorni e li ringrazio perché hanno fatto bene. Magari alle parole chiedo anche di accompagnarli con gesti concreti come quelli che stiamo facendo noi in queste ore. Intanto i familiari dei malati di Alzheimer, dopo due lettere inviate al presidente delle Marche, Luca Ceriscioli, senza ottenere risposte, avevano annunciato un sit-in di protesta davanti a Palazzo Raffaello, sede della regione. L'iniziativa, ci fanno sapere, è sospesa in attesa dell'incontro che si terrà a Dancona il 3 agosto alle 14.30 con tutti i soggetti coinvolti. In questi giorni abbiamo ottenuto costantemente i contatti con i gestori del centro Margherita, la cooperativa Lava Birinto, abbiamo ottenuto i contatti con la regione, con l'Azur, con l'Area Vasta e finalmente possiamo dire, ce l'hanno comunicato anche stamattina proprio i gestori, quindi la stessa cooperativa, che grazie a questi fondi saranno in grado di ripartire. Quindi presenteranno il progetto di struttura di ripartenza, adeguandolo alle nuove normative, tra l'altro in questi giorni, noi siamo riusciti proprio ieri, l'OSES, che è l'unità operativa sociale e sanitaria di integrazione socio-sanitaria, ha sbloccato i progetti delle strutture residenziali. Nei prossimi giorni le strutture residenziali dell'ambito potranno di nuovo accogliere i nuovi ingressi, oltre che le visite dei familiari. Quindi su questo ci è venuto incontro, bisogna dirlo, anche il distretto sanitario di Fano che ha consentito di fare i tamponi gratuiti a tutti, sia agli operatori che agli ospiti. La stessa cosa, credo e spero, avverrà anche per il centro Margherita, quindi con la variazione di bilancio avremo a disposizione 40.000 euro da destinare per il centro e per la ripartenza.